Musica Ed era così il brano di Gigi Finizio con esperienza per un'amica Anna da Bosco Trecase Ciao Anna, una buona sintonia Questa che stai ascoltando è sempre Radio Chimera dalla città di Bosco Reale in Vipo Comizi numero 3 Programmi in onda e Buongiorno Napoli con Tony e microfoni, Megars 106 e 250 in Megars Programma di musica parte europea richiesta per voi c'è Tony L'appoggio è sempre Tony Marciano Al suo secondo incontro S.O.S. Amore Mio Le sue non mandiamo per tutta la fascia in ascolto di Radio Chimera Le sue donna amica Sandra da Corbana Ele falls e Tony Marciano Ciao Sandra e così andiamo alla prossima canzone in programma per l'amica Alina da Bosco Trecase il motivo di Franco Colone intitolato Kiss e l'amore per te a Radio Chimera ciao Alina buon ascolto per te con Franco Colone Kiss e l'amore per te dall'album ancora di più Franco Colone grazie a tutti grazie a tutti